Musica 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 E vabbè Un polpone proprio Le regole per un buon vlog Mai dire a paralacce Vai Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog Dove siamo? A Udine Ciao a tutti ragazzi, stamani parlo io No, stamani inizio a parlare io Ah Jimmy allora Se devi fare come hai fatto per il tuo vlog Del mobile Che hai fatto l'intro 100 volte La fai una volta Una volta Via vai Intro Buongiorno ragazzi, oggi inizio a parlare io Ragazzi inteso come tutti Ma che palle Sì, ciao a tutti ragazzi e ragazze Eh Sono Jimmy, sono alto 1,79m Va bene così dentro Non 1,80m quindi sono proprio sfigato 1,79m Ecco vai E inizio a parlare alla fine Sì No perché sai la mamma non mi ha fatto tanto alto Mannaggia la mammina Allora Stamani stiamo andando a Udine Ok A fare Non lo so La presentazione di un macchinario per il fitness Per la riabilitazione No, fighissimo Io ho visto ieri il video, è fighissimo Però Sono i macchinari che non trovi da nessuna parte Quindi È un evento di Canali System L'evento sarà domani Mentre noi abbiamo deciso di andare oggi Così visitiamo un po' Udine E basta Quindi adesso stiamo arrivando Abbiamo provato il pranzo al sacco E Mangeremo on the go In piazza Cosa abbiamo per pranzo? Beh Tu cos'hai? Eh Me l'ha fatto la Silvia Quindi Allora Io ho orecchiette con zucchine e tonno E pomodori E pomodori Siamo ai poveri pomodori Io ho couscous, zucchine, pomodori, avocado, ceci Il tonno Chi più ne ha, più ne metta Insomma Limone e cipolla No, cipolla Come mai guidi te Silvia? Perché sono una bomber No, in realtà perché Io non so come mai Ma appena tocco il volante Subito Mi prende sonno E quindi È potentissima sta cosa Io non capisco perché Diciamo che tra i due è subito io Che è meglio Che va Poi vabbè Vuoi guidar lei Vuoi mettere la musica? Ecco Mai Ascoltare questa musica Mi raccomando Damarra is the way Solo solo Cici d'Agostino Ma è Udine Sud Udine Nord Eh, devi mettere il Eh, dai A dopo Dobbiamo mettere il navigatore Navigation del Time Oh yes Udine ci piace Cibo 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 Caccia il cibo Caccia il cibo Caccia il cibo Chi ha il cibo? Giù Cibo 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 All'erba no Fa malissimo Diamo l'acqua all'erba Via Annacchiamo questa Ho aperto la scatoletta di tono Non c'è l'una Che tristezza Lei? La vaschetta piena Io? La vaschetta vuota Perché è una vaschetta diversa Non è una vaschetta diversa Guarda che era Solo che nei tre quintali io ne ho 100 grammi Che stai dicendo? Guarda, non ti dico nulla solo perché l'hai fatto te Guarda sarebbe la pigliata di tonno la vecchia è bella però non mi sento il telefono quindi questo ascensore è molto piccolo praticamente saranno 80 centimetri per un metro e mezzo o meno è un attrezzo genico non lo so 103 ma lo vedi era aperto scusa senti che odore di muro odore di pulito quello che non c'è mai a casa tua guarda accendi la luce no non c'è una grande luce no scusa questa porta tu non c'è un buco eh no io dormo in bagno che bello ma la porta non ci chiude vabbè dormiamo con la porta ci è aperta qual è il tuo problema? mi dillo 33 che stupido non fai ridere 33 33 vabbè se è così facile farti ridere allora my life is done 33 33 33 aspetta aspetta non mi viene aspetta aspetta a scuola ci insegnano aspetta siamo pronti per visitare Udine l'allastanza non c'è che non c'è non c'è che non c'è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.